Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi torno a parlarvi di GAMSGO, una piattaforma della quale vi avevo già parlato un anno fa e che consente di acquistare account condivisi per i più noti siti di streaming, come Netflix, Disney+, Spotify e tanti altri, a prezzi veramente bassissimi, forse i più bassi sul mercato. Torno a parlarvi di questo servizio perché i precedenti video su GAMSGO sono andati benissimo. Ho visto infatti molto interesse da parte vostra e tantissimi di voi hanno acquistato degli abbonamenti con il mio codice sconto. Qualcuno a Netflix, altri a Disney+, altri ancora a Spotify, eccetera. Codice sconto che vi lascerò come sempre in descrizione video insieme al link al sito. Io utilizzo questa piattaforma ormai da un anno e voglio quindi darvi un mio riscontro dopo un anno di utilizzo di GAMSGO. Per chi ancora non lo conoscesse, GAMSGO è un sito che offre grossissime possibilità di risparmio in termini di abbonamenti. Io, ad esempio, ho attivo l'abbonamento annuale a Netflix e qualche mese fa ho provato anche quello per Spotify in un video. Se ve lo siete perso vi lascio il link qui in alto sulle schede. L'abbonamento annuale a Netflix su GAMSGO ha un costo di circa 38 euro, circa 3,80 euro al mese. Invece sul sito ufficiale di Netflix lo stesso abbonamento lo paghereste circa 18 euro, per un totale di 216 euro in un anno. Quindi 38 euro contro 216 in un anno mi sembra un buon compromesso. Il mio abbonamento a Netflix è però in scadenza alla fine di questo mese e, a dimostrazione del mio grado di soddisfazione per questa piattaforma, vi dico da subito che ho deciso che rinnoverò il mio abbonamento per un altro anno intero. Mi sto infatti trovando davvero bene con questa piattaforma, non mi è mai capitato un solo giorno di malfunzionamento, proprio perché si tratta di account ufficiali che vengono però condivisi tra vari utenti in varie parti del mondo. Anche in seguito al polverone che c'è stato sul fatto che Netflix avrebbe bloccato gli account condivisi, posso dirvi che il mio account non ha mai smesso di funzionare e che continua a funzionare tuttora. Quindi senza ombra di dubbio rinnoverò l'abbonamento. Vi chiederete però come è possibile questo risparmio e come funziona la piattaforma, quindi ve lo spiego subito. Gamsgo acquista account condivisi, dei più noti servizi di streaming, in paesi in cui questi hanno un costo molto inferiore rispetto a quello che hanno nel nostro paese. Ma non preoccupatevi perché in ogni caso potrete utilizzare il servizio in lingua italiana. Come se non bastasse Gamsgo consente di condividere il costo dell'abbonamento tra più persone, di conseguenza il prezzo da pagare per le persone che condividono quell'account si riduce drasticamente. Ed ecco spiegato il motivo del grande risparmio offerto da questa piattaforma. Adesso spostiamoci al pc così vi mostro come funziona la piattaforma e come acquistare i vari abbonamenti a prezzi molto vantaggiosi. Andiamo. Ok la prima cosa da fare è quella di collegarsi al sito Gamsgo e per non sbagliare vi lascerò il link al sito in descrizione video come sempre. Insieme al link troverete anche un codice sconto per effettuare i vostri acquisti a prezzi ancora più vantaggiosi. Una volta collegati al sito questa è la schermata iniziale che vi apparirà. Molti di voi mi hanno chiesto perché quando si collegano al sito non vedono immediatamente l'abbonamento a Spotify da acquistare. Quindi vi rispondo anche qui per maggiore chiarezza. L'abbonamento a Spotify vi apparirà solo una volta che avrete effettuato l'accesso al sito. Questa schermata iniziale che vedete appena aprite il sito è solo un'anteprima degli abbonamenti. Quindi effettuiamo l'accesso al sito cliccando sull'omino in alto a destra e poi su accesso. Apparirà questa nuova schermata dove potrete effettuare l'accesso rapido tramite Gmail, tramite Facebook oppure potrete effettuare l'accesso con la vostra email senza necessità di registrarvi al sito. Vado quindi ad inserire la mia email. Clicco su continua. Clicco su accedi con il codice di verifica. Dopodiché cliccando su inviare riceverò un codice numerico sulla mia email per effettuare l'accesso. Email inviata correttamente. Ed ecco qui il codice numerico da inserire. Lo copio e lo incollo. Ed ecco che adesso tra gli abbonamenti compare anche Spotify come vedete. Quindi vediamo tutti gli abbonamenti disponibili. C'è Netflix a 3,87€ al mese, Spotify a 3,33€ al mese, YouTube Premium a 2,81€, Disney Plus a 2,08€, HBO Max 3,67€, Paramount Plus 2,99€, Tidal 3,59€, Crunchyroll 3,14€. Se in uno di questi abbonamenti ad esempio Netflix clicchiamo su visualizza maggiori dettagli ci appariranno le condizioni per quel determinato abbonamento. Quindi ci viene indicato che si tratta del piano premium a 3,87€ al mese, quindi 3,77€ circa, che corrisponde praticamente al piano che su Netflix si trova a 17,99€ al mese. Poi ci viene indicato che l'abbonamento verrà condiviso tra 5 persone, che l'abbonamento è utilizzabile su cellulare, PC e TV, che è visualizzabile in 4K HDR Dolby e che la password può essere reimpostata automaticamente dalla pagina dell'abbonamento. Quindi in caso di problemi potrete reimpostare la password. Tuttavia posso dirvi che io in un anno non ho mai dovuto reimpostare la password perché è sempre filato tutto liscio. Comunque queste stesse informazioni che abbiamo visualizzato per Netflix si possono visualizzare per tutti gli altri abbonamenti. Vi mostro ora come procedere all'acquisto di un abbonamento, quindi clicchiamo per esempio su Netflix Acquista subito. Ci apparirà questa nuova schermata dove vi è un riepilogo del pagamento al mese, 3,87€. Si può scegliere la durata dell'abbonamento, un mese, tre mesi, sei mesi, dodici mesi, ovviamente varierà il costo. Mettiamo un mese. Si può poi selezionare il numero di schermi in cui è possibile vedere Netflix. Uno schermo o fino a cinque schermi contemporaneamente. È ovvio che con cinque schermi il prezzo sale, quindi uno schermo. Qui in codice promozionale potrete inserire il codice sconto che io vi lascio in descrizione video, e comunque inserisco adesso, per avere un 5% di sconto per Netflix. Il codice sconto è LZYF5. Cliccate poi su Applicare, ed il codice è stato applicato. Risparmi il 5% con questo codice. Come vedete il prezzo è sceso a 3,68€. Dopodiché cliccate su Vai al pagamento, e avrete a disposizione vari metodi di pagamento. Vi basterà comunque avere una carta prepagata come la PostPay o una qualsiasi carta MasterCard. E poi cliccare su Vai al pagamento. Pagherete l'abbonamento, ed avrete così subito attivo il vostro abbonamento. Tutti gli abbonamenti da voi acquistati li troverete qui in alto a destra sulla scritta Abbonamento. Ok, vi mostro alcune informazioni sul mio abbonamento. Come vedete qui c'è la data d'inizio, cioè quando ho sottoscritto l'abbonamento, la data di scadenza che è il 26 agosto, ma ovviamente lo rinnoverò. Poi in account c'è l'email che il sito mi ha dato per effettuare l'accesso a Netflix. Perché ovviamente non potrete utilizzare il vostro account abituale. Dovrete utilizzare l'account che Gamsgo vi fornisce. Account e password. Non potrete cambiare né l'email né la password. Attenzione, qui sotto dove dice codice invece c'è la mia password di accesso. Poi qui ci viene indicato che dovremo utilizzare il profilo numero 1. Se avete problemi con l'accesso o pensate che qualcuno si sia appropriato della vostra password, potrete utilizzare questa opzione. Il mio profilo è stato utilizzato in modo improprio da qualcuno e resettare la password. Quindi Gamsgo vi darà una nuova password. Allora, adesso simuliamo un accesso a Netflix, così vi faccio vedere che tutto funziona alla perfezione. Andiamo quindi a collegarci a Netflix. Apriamo una nuova schermata e scriviamo Netflix. Ecco la schermata iniziale di Netflix. Clicchiamo accedi ed inseriamo l'email fornita da Gamsgo. Copia. E la incolliamo. E lo stesso facciamo con la password. E la incolliamo. Accedi. Perfetto. Come vedete abbiamo effettuato l'accesso a Netflix in tutta tranquillità. Proviamo adesso ad aprire un film o una serie tv, così vi mostro che tutto funziona alla perfezione. Proviamone un altro. Ok, come avete visto funziona tutto alla perfezione. in italiano e questo vale per qualsiasi altro abbonamento. Netflix, Disney+, Spotify, eccetera. Io inizialmente consigliavo di fare account brevi, quindi della durata di un mese, di tre mesi, per non perdere i soldi eventualmente. Ma dopo un anno di utilizzo di questa piattaforma vi posso dire che potete fidarvi tranquillamente perché non ho mai avuto problemi nell'arco di un anno e ci sono stati casi di utenti che, se hanno avuto qualche problema, sono stati rimborsati. Quindi non correte alcun rischio. È un sito che si è dimostrato davvero serio. Ad esempio per Disney+, c'è la possibilità di fare solo l'abbonamento annuale, mentre all'inizio avevo qualche dubbio nello spendere 25 euro di abbonamento perché non sapevo se il sito fosse o meno sicuro. Adesso lo farei ad occhi chiusi. Bene, questo è il funzionamento di Gams Go. Fatemi sapere se lo conoscevate già e se lo utilizzate. Se ancora non lo conoscevate, io vi consiglio di provare il servizio e vedrete che poi non riuscirete più a farne a meno. Come anticipato, in descrizione trovate il link al sito ed il codice sconto che vi consente di avere un ulteriore sconto del 5% a Netflix, il 3% di sconto a Disney+, ed il 2% di sconto a Spotify e a tutti gli altri abbonamenti. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni, tutorial e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!